Da 12 anni lo scenario è desolante. Da 12 anni si parla del progetto di riqualificazione di via Santa Croce ma il quartiere di Santa Croce a ridosso di Porta Barete della bellissima chiesa attende di essere riqualificato. Alcune persone hanno scelto l'abitazione equivalente, due palazzine sono state stralciate dal progetto e sono in ricostruzione, una già completata, mentre davanti i vecchi palazzi sono stati abbattuti e attendono la ricostruzione. Chi non si arrende alla signora Dina Pelliccione che da anni porta avanti la sua battaglia perché al momento non sa né quando né come la sua casa, era il Civico 33, sarà ricostruita. Il suo edificio è stato abbattuto insieme ad altri quattro che alla fine nel progetto saranno tre per diradare l'area a ridosso del sito archeologico di Porta Barete. Un quartiere da riqualificare invece poi è diventato metà quartiere e di questa metà purtroppo facevo parte io. Dopo 12 anni il progetto di riqualificazione è sotto gli occhi di tutti. Eccolo, è un progetto dove si possono vedere serpi, topi, mondizie varie, quindi bella riqualificata la città. Io vorrei dire che le persone che hanno fatto questa scelta scellerata dovrebbero semplicemente mettersi la mano sulla coscienza perché dopo 12 anni è difficile dire ai figli che ti chiedono ma perché gli altri rientrano e noi no? È difficile dopo 12 anni dover dire ai propri figli che ancora non c'è, io almeno non ho visto nessun progetto, è sempre tutto pronto perché poi vai a una parte e ti dicono che è colpa di X, vai a X ma è colpa di Y, però i risultati eccoli. Io sono arrivata alla conclusione molto triste che questa scelta doveva essere fatta da persone competenti e sono arrivata alla conclusione quindi che o non c'è la volontà di farlo questo piano di riqualificazione o non c'è la competenza. L'assessore Vittorio Fabrizi nei giorni scorsi ha chiarito che è tutto pronto e vanno riassegnati i lotti perché i terreni non sono quelli di prima ma anche su questo punto i residenti avanzano delle perplessità perché a loro giudizio ancora non sarebbero state formalizzate delle questioni circa le case equivalenti. Comincio a non sentirmi più aquilana perché mentre prima io da qui mi bastavano dieci minuti per andare in centro e penso che il commercio ne risenta molto di questa situazione perché come me tantissime persone, io in centro non ci vado più.